Buongiorno, le notizie di martedì 14 giugno 2022. Il messaggero segnala a pagina 14 il passaggio dell'incrociatore Variac a circa 150 miglia dalle coste pugnesi. La manovra, pur preoccupando a causa del contesto internazionale, è stata comunque descritta dagli addetti come dimostrativa. Operazioni di questo tipo stanno però diventando frequenti e la difesa italiana le monitora con attenzione. Il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Enrico Credendino, ha ricordato che sono salite a 18 le navi da guerra di Mosca nel Mare Nostro, più due sommergibili. Secondo il fatto quotidiano, l'esercito si sarebbe beccato una febbre da cavallo. Il riferimento, con un articolo a pagina 1 più 21, è alla partenza del centro militare di equitazione di Monte Libretti di 5 cavalli, 3 dell'esercito e 2 privati, trasportati su un van dell'esercito. Oltre a questo, sarebbe stato pagato il pernottamento ai 4 cavalieri, un ufficiale e 3 caporal maggiori. A creare dubbi sarebbe il fatto che i cavalieri non rientrano fra i 10 militari inquadrati come atleti nel settore equitazione. Su un nuovo quotidiano di Lecce, a pagina 18, si parla del concorso pubblicato dal Ministero della Difesa e finalizzata la ricerca di 182 nuovi ufficiali per la Marina Militare, il Corpo di Stato Maggiore e il Corpo delle Capitanerie di Porto. Tra i requisiti è richiesta una condotta specchiata e fedeltà alla Costituzione Repubblicana. La politica interna. Il primo turno delle amministrative vede il centrodestra aggiudicarsi 10 comuni contro i tre del centrosinistra. Il centrodestra vince al primo turno in tre capoluoghi di regione, Genova, Palermo e L'Aquila, oltre che a Rieti, Belluno, Pistoia, Asti, La Spezia, Oristano, con Fratelli d'Italia che sorpassa la Lega come guida della coalizione. Ballottaggi in altre 13 città, tra cui Parma e Verona. Il segretario Enrico Letta giudica positivo il risultato del Partito Democratico, che diventa primo partito e si aggiudica Lodi e Padova. Mentre c'è delusione tra i pentastellati che mettono in crisi il campo largo fermandosi tra il 3 e il 4%. Molto bassa l'affluenza. Solo il 54,72% degli aventi diritto al voto si sono recati alle urne. Nulla di fatto per il referendum sulla giustizia in Italia, i cinque quesiti promossi da Lega e Radicali. Il quorum non è stato raggiunto e le percentuali dei cittadini italiani che si sono recati alle urne sono risultate molto basse. Ora, l'unica riforma della giustizia resta quella del ministro Cartabia, che si pone come obiettivo quello di chiudere tutto entro giovedì. Ieri in Commissione Giustizia si è già discusso dei 264 emendamenti, mentre stamani è prevista una riunione di maggioranza che potrebbe essere decisiva per proseguire l'iter della riforma. Rimane però l'incognita Lega che, dopo il flop del referendum, ha annunciato la volontà di portare in Commissione delle proposte che siano coerenti con la separazione delle carriere e la riforma del GSM. Una politica estera. Prosegue senza sosta la vasta offensiva delle truppe russe per conquistare la regione ucraina al sud orientale del Donbass. L'esercito di Mosca, appoggiato dalle milizie di Lugansk e dalle unità cecene scese da nord e da nord-est, hanno praticamente completato la conquista di Seviero Donetsk, rimasta isolata dai bombardamenti che hanno distrutto tutti e tre i punti verso la città. Gli ucraini ora hanno due opzioni, seguire l'esempio dei loro colleghi a rendersi o morire. Non hanno altra scelta, minacciano i russi. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha accolto il premier Mario Draghi, impegnato nel suo viaggio tra Israele e Palestina. Al centro degli incontri ci saranno il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la situazione in Ucraina e la sicurezza alimentare con la necessità di scongiurare la crisi NATO, i temi energetici, il processo di pace israelo-palestinese e l'antisemitismo. La missione a Gerusalemme precede altri importanti impegni internazionali delle prossime settimane, tra cui Summit G7 NATO e la visita ad Ankara, Turchia. Brusco stop per il presidente Emmanuel Macron. La sua maggioranza, riunita nella coalizione Ensemble, ha ottenuto il 25,75% dei voti al primo turno delle elezioni legislative, superando di appena 21.442 voti in UPP, guidato da Jean-Luc Mélenchon, che si è attestato al 25,66%. A seguire, la destra neogollista dei Repubblicain e il Rassemblement National di Marine Le Pen. Flop per Eric Zemmour, destra, eliminato al primo turno. Economia e finanza. Lunedì nero per le borse spaventate dalle mosse future della Banca Centrale Europea, che ha comunicato per luglio la fine del quantitative easing e il rialzo dei tassi di interesse. Una politica monetaria che non piace a Francesco Giavazzi, consigliere di Draghi, che ieri ha bocciato senza appello la scelta di Christine Lagarde. Piazza Affari segna un ribasso finale del 2,7%, Don Fon anche per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,65%, il Nasdaq il 4,29%. Nel vecchio continente Amsterdam ha perso il 3%, Parigi il 2,7%, Madrid il 2,5%, Francoforte il 2,4%, Zurigo l'1,7% e Londra l'1,5%. Lo spread BTP Bund ha chiuso a quota 238. Piazza Affari ha perso il 7,5% in due giorni. Stellantis lascerà la CEA, l'Associazione dei Costruttori Auto Europei, entro fine anno e creerà dal 2023 un forum annuale aperto, il Freedom of Mobility Forum. L'obiettivo, spiega la D. Carlos Tavares, è riunire un gruppo eterogeneo di esperti in grado di affrontare e risolvere i problemi della mobilità pulita, sicura e conveniente per la società a fronte delle implicazioni del riscaldamento globale. Ed è tutto. Buona giornata.